Il tentativo da parte di ignoti di forzare l'ingresso della sagrestia della chiesa di San Domenico è stato reso pubblico stamattina dall'arciprete di Sciacca, Don Giuseppe Marciante. Forse si è trattato di vandali, probabilmente ladri. Ancora adesioni alla nuova democrazia cristiana di Cuffaro e Carmelo Pace, indiscrezioni confermate, anche Filippo Bellanca entra a far parte del partito ma il Consiglio Comunale resta civico con il gruppo Sciacca 2022 con Mandracchia. C'è anche la saccenza Irene Fisco tra i partecipanti alla conferenza internazionale sul clima in corso in Egitto come studiosa della Croce Rossa italiana, consapevolezza sui cambiamenti climatici è aumentata, dice la dottoressa Fisco. Sul via Lido è sbagliato impedire gli interventi sulla base delle norme sui vincoli di inedificabilità perché proprio in quella zona questi vincoli non sono più in vigore. Questa è l'opinione dell'architetto Ignazio Gallo, esponente di Fratelli d'Italia. La crescita delle ceramiche e la necessità di reclutare nuovi giovani apprendisti che garantiscano un futuro ad un settore importante anche dal punto di vista occupazionale, questo è il tema al centro della nuova puntata di Vesper in onda da oggi. Sport e calcio, derby a Grigentino, domani al Gurrera per l'Unitas Sciacca che affronta il Pro Favara, gara che potrebbe avere valenza significativa in prospettiva play-off. L'allenatore Brucculeri dovrà fare a meno dello squalificato Ciancimino. Un cordiale saluto di benvenuto, ben trovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con le notizie. Ancora bene i monumentali di Sciacca nel Mirino, a denunciarlo l'arciprete Don Giuseppe Marciante. I gnoti questa notte hanno provato a forzare la porta della sacristia che conduce all'interno della chiesa di San Domenico in piazza Angelo Scandaliato. Per fortuna non sono riusciti ad entrare, afferma padre Marciante, ma la porta dovrà essere riparata. Non capisco il motivo di questi atti che condanno fermamente. Sentiamo. Nuovo atto vandalico a Sciacca. I gnoti questa notte hanno provato a forzare la porta laterale della sacristia della chiesa di San Domenico, accesso che poi conduce direttamente in chiesa. A denunciarlo l'arciprete Don Giuseppe Marciante, che si dice amareggiato per quanto accaduto. Secondo i primi rilievi effettuati, i responsabili non sarebbero riusciti ad entrare in chiesa, ma sicuramente la porta della sacristia andrà riparata. Padre Marciante, che fa poi un invito ad un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti e a portare avanti una migliore vigilanza notturna. Io proprio una mezz'oretta fa sono stato chiamato da Gianluca, che custodisce la chiesa di San Domenico, mi ha chiamato con tante preoccupazioni, mi ha fatto vedere che la porticina che è nella villetta di piatto scandaliato, che naturalmente è curata con una telecamera, controllata dai vicini urbani. Questa porticina è stata sforzata fortemente dai ignoti, naturalmente, e io ho controllato dall'interno, effettivamente ho visto delle ripercussioni di questo tentativo di entrare e di rompere la porta. Certamente sono questi episodi vantali che preoccupano la vita della città. E proprio in un contesto di questa giornata di oggi, che qui nel Palazzo Comunale si sta vivendo, l'aspetto della gentilezza, il valore della gentilezza, il valore del sorriso e i valori anche di una vita serena, io credo che questi fatti, che non sono per fortuna grave, ma sono preoccupanti, ci devono aiutare a riflettere, a meditare sul valore di un'educazione civica per i beni della città. Naturalmente ci vuole una certa vigilanza molto importante, queste telecamere che naturalmente vigono sulla villetta di piazza scandaliato e vanno curate, vanno attenzionate, vanno verificate, perché questi tentativi di vandalismo naturalmente hanno dei protagonisti, non sappiamo chi sono, però preoccupano la vita normale del cittadino. Io sono convinto che, mi auguro che anche questa giornata di oggi, la giornata della gentilezza, ci facciano riflettere tutti quanti, dobbiamo dare ai nostri giovani i grandi valori, di virtù non se ne parla più oggi e credo che la gentilezza è una grande virtù da rivalorizzare, da riscoprire, per sapere stare bene insieme, avere cura del creato, come ci dice Papa Francesco. E mi auguro che questi interventi culturali, questi momenti culturali, possano aiutare la città a crescere su questo aspetto. Per quanto lei ha potuto constatare, sono riuscito ad entrare in chiesa? No, 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 hanno tentato di sbrancare la porta, che naturalmente dalla chiesa si esce nella villetta, semplicemente ho notato all'interno che la sbranca è stata sforzata, ma niente di grave, niente di preoccupante per la salvaguardia della chiesa, però il fatto naturalmente è un fatto che ci preoccupa. Non capiamo e non si comprende perché questi atti così pesanti, i nostri giovani, o chi per loro, devono macchiarsi la coscienza, un po' di gentilezza verso le cose ci vuole, verso il bene comune, un po' di cura verso il patrimonio della città, un po' di attenzione, un po' di amore alle cose che Dio ci ha dato e anche l'uomo ha costruito. Di servizi idrici oggi a Sciacca a causa dell'interruzione della fornitura elettrica ai pozzi carboi da parte di Enel, lo ha comunicato ieri l'azienda idrica comune Grigentini, evidenziando lo stop dell'approvvigionamento idrico ai serbatoi Santa Maria, Tabasi e Mure di Vega, Sciacca, con conseguente ricaduta sulla distribuzione nelle zone servite da questi serbatoi che potrebbe subire limitazioni o slittamenti. AICA ha assicurato che l'erogazione idrica tornerà a regolare non appena Enel avrà ripristinato la fornitura elettrica ai pozzi carboi e di conseguenza nei serbatoi di Santa Maria, Tabasi e Mure di Vega. La distribuzione per normalizzarsi avrà comunque bisogno di necessari tempi tecnici. Emergenza cessata a Ribera. Sono terminati ieri pomeriggio i lavori di riparazione della fuga di metano dal sottosuolo che era iniziata giovedì mattina dopo le verifiche tecniche da parte dei vigili del fuoco su possibili concentrazioni di gas in locali, seminterrati, tombini, appartamenti. Il sindaco Matteo Ruvolo ieri sera ha revocato l'ordinanza che disponeva l'evacuazione di una trentina di famiglie residenti nel raggio di 100 metri dal luogo della rottura. Famiglie che finalmente hanno fatto rientro nelle loro abitazioni contestualmente sono state autorizzate a poter riaprire i battenti, anche le attività commerciali della zona e la scuola Crispi. Continuano a sciacca le adessioni alla nuova democrazia cristiana che ha nell'ex sindaco di Ribera, Carmelo Pace, il proprio rappresentante all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Anche Filippo Bellanca e altre persone hanno formalizzato il loro approdo nel partito, rifondato da Totò Cuffaro. Tuttavia, al momento, Bellanca in Consiglio Comunale rimane all'interno del gruppo civico Sciacca 2022. Massimo D'Antonio. Si rafforza ulteriormente a Sciacca il gruppo politico che fa riferimento alle posizioni del neodeputato regionale della democrazia cristiana, Carmelo Pace. Dopo la costituzione del gruppo consigliare formato da Carmela Sant'Angelo, Pasquale Bentivegni e Nino Venezia, oggi ad annunciare l'adesione al partito è stato anche Filippo Bellanca. Notizia che per la verità era nell'aria, adesione a cui però non corrisponderà l'ingresso nel predetto gruppo consigliare, la personale amicizia che da anni mi lega a Carmelo Pace e l'esigenza di dare seguito al mio personale percorso politico-amministrativo che da anni mi mette al servizio delle stanze dei miei concittadini, che numerosi continuano a darmi incondizionata fiducia, mi hanno portato, dopo attenta riflessione, a fare delle scelte sul futuro della mia esperienza politica. Così Bellanca in una nota diramata questa mattina. Bellanca che conferma dunque che su sollecitazione dello stesso Pace ha deciso di aderire in modo convinto precisa alla nuova DC, costituita in Sicilia dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Sicuro, aggiunge l'ex presidente del Consiglio Comunale di Sciacca, che il neodeputato regionale sarà in grado di rappresentare al meglio, con il mio supporto, le esigenze del nostro territorio. Filippo Bellanca inoltre riconosce pubblicamente che negli anni in cui ha ricoperto la carica di sindaco di Ribera, Carmelo Pace ha dimostrato acume politico e fermezza nel sostenere le ragioni della sua comunità. Insieme, ognuno per la sua parte, abbiamo fatto diverse battaglie adesso, osserva ancora Bellanca, abbiamo deciso di convergere le nostre strade in un'unica direzione. Filippo Bellanca aderisce alla nuova DC insieme alla presidente dell'associazione Sciacca 2022 Irene Pumiglia e ad altri amici, nella fattispecie Emanuela Allegro, Dalila Barbiera, Elide Cassarà, Gabriele Endelicato, Gaia Visita, amicizie con le quali, spiega Bellanca, nel corso dell'ultima campagna elettorale amministrativa ci siamo candidati, dando forza al progetto civico Sciacca 2022 che continuerà il suo percorso locale. Siamo ora pronti a fornire all'amico Carmelo Pace e alla DC la nostra collaborazione, a mettere al servizio del territorio le competenze da noi acquisite in questi anni. Un percorso, quello che fa riferimento a Sciacca 2022, che dunque prosegue e che vedrà Bellanca, ancorché condividere la stessa appartenenza partitica con Carmela Sant'Angelo, Pasquale Bentivegna e Nino Venezia, continuare a rimanere all'interno dell'aula Falcone e Borsellino con la sua identità civica, all'interno della lista che sarà rappresentata da lui e da Paolo Mandracchia. Cambiamenti che all'orizzonte potrebbero però anche configurare scenari diversi, anche in ordine ad un possibile rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale guidata da Fabio Termine, che, come noto in Consiglio, non ha i numeri necessari per potersi fare approvare i punti. Nulla è impossibile, sappiamo, soprattutto in politico, come la storia d'altronde insegna. Non si può negare tuttavia che la fase transitore che si sta attraversando, soprattutto a seguito della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo di ordinare la verifica delle schede votate al primo turno, dovrebbe dilatare ulteriormente i tempi per possibili novità sostanziali. Il Consiglio Comunale di Sciacca ha approvato ieri sera solo i debiti fuori bilancio. Era stato convocato d'urgenza in realtà per approvare una delibera, il cui termine ultimo per l'approvazione in un primo momento sembrava essere quello dell'11 novembre. La delibera in questione è quella mente per oggetto lavori di somma urgenza per fronteggiare l'evento meteo idrogeologico idraulico che ha colpito il territorio di Sciacca il 13 ottobre scorso. Lavori affidati a 10 ditte per complessivi 107.000 euro 748. È stata poi la commissione bilancio convocata in mattinata a scoprire che non c'era l'urgenza e che la data ultima per l'approvazione è il 26 novembre, data confermata dal neosegretario convocato in commissione per offrire spiegazioni ai componenti. Infatti la delibera di giunta municipale firmata dal vice sindaco Gianluca Fisco è del 27 ottobre e per norma i 30 giorni utili per l'approvazione ricorrono dalla data della delibera di giunta e pertanto la scadenza è quella del 26 novembre. Dalla opposizione ma anche dallo stesso presidente del Consiglio Comunale Ignazio Messina è arrivata ieri l'ennesima sollecitazione ad amministrazione ed uffici ad evitare che atti importanti vengano trasmessi in consiglio all'ultimo minuto impedendo ai consiglieri di avere il tempo necessario e opportuno per leggerli e comprendere i contenuti. Nella prossima seduta Sala Falcone Borsellino sarà chiamata ad approvare non solo tale delibera ma anche le variazioni di bilancio la cui scadenza in questo caso è quella del 30 novembre. C'è anche una saccenza alla conferenza mondiale sui cambiamenti climatici si tratta della dottoressa Irene Fisco che si trova in Egitto nella delegazione italiana come studiosa di politiche ambientali all'interno della Croce Rossa. Massimo D'Antoni l'ha raggiunta e intervistata. Vediamo. C'è anche una studiosa saccenza alla dottoressa Irene Fisco laureata in scienze politiche nel ramo delle relazioni internazionali tra i partecipanti a Sharm el-Sheikh alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici quella conosciuta anche come COP27. La dottoressa Fisco si trova in Egitto, fa parte della delegazione italiana e porta avanti insieme ad un suo collega le attività del servizio politiche ambientali della Croce Rossa italiana di cui fa parte. Vorrei capire cosa c'entra la Croce Rossa con il tema dei cambiamenti climatici? Questa è una domanda che mi hanno fatto in tanti che c'entra la Croce Rossa con i cambiamenti climatici. La missione di Croce Rossa è quella di alleviare le sofferenze umane e purtroppo i cambiamenti climatici, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti stanno già producendo delle catastrofi umanitarie purtroppo le conseguenze umanitarie della crisi climatica continueranno ad aumentare e per questo come Croce Rossa italiana e come parte della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si trova in tutto il mondo e dobbiamo essere qui a capire quello che sta succedendo e vedendo come i governi del mondo si impegneranno per mitigare le conseguenze di cambiamenti climatici e anche per adattare i territori perché siano più resilienti, più capaci di sopportare queste conseguenze e questo per noi è fondamentale. Ecco, ma per lei cosa rappresenta questa esperienza sul piano personale? A livello personale questa per me è un'opportunità incredibile e sono molti anni che desideravo capire come funzionano i negoziati sapere cosa si muove all'interno di una COP e COP per chi non lo sapesse sta per conferenza delle parti cioè tutti i governi del mondo che hanno firmato la prima convenzione quadro sui cambiamenti climatici, grandissima parte dei quali hanno poi firmato il Trattato di Parigi e che oggi devono decidere se riuscire davvero, se impegnarsi davvero per raggiungere l'obiettivo di fermare l'aumento della temperatura media a un grado e mezzo sopra la media preindustriale, questo è l'obiettivo, il grado e mezzo può sembrare poco ma in realtà questa piccola differenza crea degli incredibili sconvolgimenti a livelli di ecosistema, di clima un aumento degli eventi meteorologici estremi e noi a Sciacca lo abbiamo visto. Dottoressa, cosa pensa lei del dibattito sulla questione ambientale soprattutto in riferimento al fatto che ci sono paesi piuttosto grandi nel nostro pianeta che non hanno voluto aderire ai protocolli per ridurre le emissioni inquinanti? Ci si chiede spesso perché paesi molto popolosi come l'India, la Cina non fanno per primi un passo per impegnarsi a tagliare le emissioni di gas clima alteranti quindi un impegno per il clima, in realtà però pensate che 123 miliardari al mondo consumano ciascuno in un anno un milione di volte più di qualunque altra persona comune sulla terra e questo per dire che uno non vale uno quando parliamo di clima avere uno stile di vita piuttosto che un altro non è la stessa cosa e quindi io ritengo personalmente che i primi a impegnarsi per tagliare le emissioni dare un esempio debbano essere i paesi più industrializzati i paesi che si sono industrializzati prima e che hanno contribuito di più a provocare le conseguenze sul clima che noi vediamo perché il loro impatto può essere molto più grande di quello di tanti altri paesi pensate che l'Africa intera produce solo il 3% delle emissioni di CO2 voglio fare un'ultima domanda sul tema ambientale come lei sa benissimo c'è una sensibilità piuttosto ambigua ancora da parte dei governi eppure i fenomeni climatici talvolta disastrosi sono sotto gli occhi di tutti qual è la sua opinione su questo aspetto del problema? c'è una miopia legata al fatto che non si vuole realmente cambiare il sistema di produzione e di consumo è molto difficile, molto faticoso probabilmente impegnarsi a trasformare così tanto il modo in cui siamo abituati a vivere però dobbiamo farlo perché la finestra di tempo per agire si sta veramente accorciando e senza azioni radicali probabilmente non riusciremo a modificare tanto gli effetti drammatici che già stiamo vedendo se i governi si impegnano adesso in maniera radicale per tagliare le emissioni alcuni di questi effetti dureranno io penso che ci sia un po' di speranza perché abbiamo visto anche qui che c'è un impegno, comunque una volontà di tagliare le emissioni il problema è che si deve accelerare, si deve accelerare nell'azione e perché questo succeda bisogna che le persone comuni siano informate, capiscano quanto è urgente e agiscano sui loro governi e scelgano rappresentanti politici che credono che questa è una crisi e che va trattata come una crisi Fa discutere un anno dopo l'alluvione che devastò Sciacca la situazione in cui continua a versare uno degli edifici di Via Lido evacuato e ancora con la sua tenuta a rischio Oggi sul tema interviene Ignazio Gallo, architetto e presidente del Circolo Marina San Michele di Fratelli d'Italia ad opinione del quale l'amministrazione è in grado di risolvere la questione Sentiamo Ad impedire il ripristino dei manufatti danneggiati in Via Lido sono le norme sul vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla costa, cosa che vale paradossalmente anche per un manufatto regolare ma è dal 1973 che quel tratto di costa non è sottoposto a vincolo Arriva l'arroggi l'architetto Ignazio Gallo, presidente del Circolo Marina San Michele di Fratelli d'Italia Spesso praticamente si dà colpa alla burocrazia che è troppo frareginosa e in qualche maniera interviene su ambiti particolari In realtà questa area oggi trova un problema di carattere generale che interessa anche altre zone del territorio che è la cosiddetta fascia dei 150 metri dal mare rispetto alla fascia dei 150 metri che prevede linee di inedificabilità assoluta che con la recente giurisprudenza farebbe applicare anche questo vincolo in un'area già edificata Su questo io mi riallaccio a un intervento di circa un anno fa dell'avvocato Calogero Marino che ha ottenuto un chiarimento da parte dell'assessorato nella fattispecie di Via Lido che la fa ritenere esclusa da qualsiasi vincolo di carattere ambientale nonché anche dal vincolo dei 150 metri ragion per cui tutte le questioni che oggi legano i privati che in qualche maniera impediscono pure l'accesso al 110 per poter intervenire sul muro di contenimento o il pubblico per poter accelerare i processi di attivazione per quanto riguarda la realizzazione e la messa in sicurezza dell'area possono essere tranquillamente snellite Gallo fa sapere che una delibera del Consiglio Comunale di Sciacca di 49 anni fa aveva eliminato ogni dubbio questa possibilità deriva addirittura da una delibera consigliare del 1973 dove quest'area è stata perimetrata come area urbana così come nella Contrada Foggia anche essa perimetrata come area urbana e dove questo gli dà la possibilità di essere devincolata totalmente da questi vincoli di carattere ambientale Ma come è stato possibile realizzare questi manufatti in presenza di un vincolo di inedificabilità? Stiamo parlando di norme che già hanno 50 anni tra i passaggi di consegna dei vari dirigenti eccetera eccetera si è presso anche a memoria mentre oggi abbiamo il vantaggio di avere la grande biblioteca telematica che è internet quindi se cerchiamo una norma la troviamo rapidamente tutto quello che riguarda il passato che è ancora ancorato sul cartaceo bisogna andarla a cercare, espulciare e aggiornare quindi stiamo parlando di un atto deliberativo del 1973 successivamente all'approvazione del primo strumento urbanistico piano compensore numero 6 su questo poi il comune negli anni 70 e fino al ridosso degli anni 90 ha rilasciato tranquillamente concessioni edilizie permesse di costruire quindi nonché eseguito opere pubbliche come le strade i problemi di ora perché c'è un conflitto con la norma sui 150 metri di norma esattamente perché c'è stata una norma che ha aperto una interpretazione con effetti retroattivi facendola rientrare anche per quell'epoca è dunque possibile dice il tecnico che l'amministrazione termine possa dirimere le questioni aperte perché non è sempre vero che la colpa è della burocrazia già l'assessorato ha dato come dire un'indicazione in tal senso accettando appunto questa situazione la sovrintendenza su determinate situazioni non interviene proprio perché già prende atto di questo l'ufficio tecnico dovrebbe fare la stessa cosa dicendo che questa area non è suscettibile all'applicazione della norma della fascia di 150 metri per le molte ragioni che già sono state ampiamente discusse ma dal punto di vista paesaggistico lei cosa pensa su questo fatto insomma lì siamo a 150 metri e come se ci siamo dal mare secondo lei sono stati commessi degli errori nel passato? questi immobili si ritrovano realizzati dietro una cortina di fabbricati realizzati prima del 1912 cioè la cortina di fabbricati dello stazione dove ci sono anche le manufatte delle ferrovie no? esattamente quindi stiamo parlando di un'area che già all'epoca era antropizzata sono 1520 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa per la giornata di oggi la prefettura di Agrigento ha disposto un doppio trasferimento per un totale di 650 persone in mattinata 450 sono stati imbarcati sul traghetto di linea veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle poi altri 200 lasceranno l'isola con la motovedetta della Guardia di Finanza ieri con 9 diversi barconi a Lampedusa sono giunti 377 migranti due soccorsi di 38 e 35 persone in serata sono stati molto complicati a causa del mare mosso lo spunto della nuova puntata di Vespa è in onda da oggi sulla nostra emittente la recente costituzione della strada regionale delle ceramiche siciliane un organismo che raggruppa i comuni isolani connotati da un'importante tradizione storica e culturale che tuttavia hanno bisogno di iniziative organiche tese ad incrementare lo sviluppo del settore si sono confrontati sull'argomento il sindaco di Burgio Franco Matinella la maestra ceramista burgitana Rita Manzullo il maestro ceramista di Sciacca Salvatore Sabella e l'ambasciatore dell'Associazione Italiana Città della Ceramica Salvatore Mandracchia vediamo una breve sintesi tratta dalla puntata del programma curato e condotto da Massimo D'Antoni e dei giorni scorsi la costituzione è avvenuta nella città di Caltagirone della strada regionale delle ceramiche siciliane ed è una fase un po' complicata anche perché la crisi economica sta avvenendo tanti giovani che potrebbero cominciare a fare i ceramisti ma che invece in questa fase storica sicuramente non lo stanno facendo allora cercheremo di capire quali possono essere le prospettive non si riesce a capire l'importanza ma non a livello territoriale o comunale di Bugio, di Sciacca, Caltagirone ma a livello siciliano, nazionale dell'importanza della ceramica, della cultura per quanto riguarda la promozione, la pubblicità, la vendita cioè io lo vedo con i visitatori del nostro museo che vengono e rimangono entusiasti, allibiti perché non conoscono bene queste cose perciò io sempre punto che la politica regionale deve dare una maggiore attenzione perché io sono convinto, ripeto, non posso dire sono convinto che non ne sanno tanto su questi problemi ma non soltanto un'attenzione un'attenzione a livello anche come aiuto come supporto sui fondi PNR su altri finanziamenti ma dare proprio a questo settore proprio un'attenzione particolare dal punto di vista finanziario sì, beh, quello è un grande problema quello dei giovani perché non vedo interesse non vedo, a meno che non con queste nuove tecnologie diciamo, non ci buttiamo completamente in ballo e quindi i giovani che è la propria casa è la casa dei giovani no? la nuova tecnologia i social e tutto quanto quindi secondo me dobbiamo puntare lì perché, per esempio, io le dico che avevo 30 anni attraverso un corso regionale mi sono formata per cui le mie colleghi la sua famiglia non era lei non è discendente di una famiglia assolutamente no diciamo che la capostipite è lei sì pur avendo un animo artistico però io non avevo alcuna cioè io non conoscevo neanche l'argilla cosa fosse e sono burgitana dico, abbiamo una cava d'argilla nel paese per cui capisce cioè io attenzionerei anche la scuola e comunque al momento non c'è all'orizzonte un ricambio generazionale pochissimo proprio pochissimo io sinceramente da questo aspetto vedo che non c'è stimolo non c'è c'è assofazione vedo che la gente è così va bene così si va avanti però è brutta questa condizione perché io da ragazzino sono entrato in una bottega e ne sono più uscito quindi sono stato affascinato ma questo non lo vedo nei giovani sa perché pure? perché qualche tempo fa il ragazzo di bottega era già a 10 anni, 12 anni era già infarinato veneva si coglieva a certi aspetti ora questo purtroppo per motivi anche fiscali non è più possibile quindi diciamo che in questa sorta di passaggio un po' manca oggi si rischia di essere denunciati per lavoro minorile assolutamente quindi qualche tempo fa si poteva fare si passa noi passiamo da un eccesso all'altro io penso che bisogna recuperare lo spirito dalla missione se noi non recuperiamo questo spirito nel quale tutti i maestri devono credere secondo me abbiamo delle falle e lo spirito sta nel capire che questa è un'antica arte che va preservata ma è anche un fattore culturale turistico e economico i tre fattori si tengono assieme e allora recuperare questo spirito della coesione rispolverà l'idea dell'associazione anche locale cimentarsi con manifestazioni che inizino nuovamente a far andare fuori dalle botteghe i ceramisti con i loro pezzi credo sia il passaggio fondamentale diversamente rimane una vetrina purtroppo lo dico una vetrina all'interno della quale sono esposti dei pezzi che possono catturare più o meno l'interesse del cittadino dei turisti degli appassionati ma che comunque è un qualcosa non interattivo una discarica incontrata a Castellana con Eternit pneumatici rifiuti incendiati alla perriera sporcizia nella villetta Lombardo e la perriera ancora disseminata di buche non riparate questo oggi ci segnalano i cittadini nella consueta rubrica dedicata alle vostre segnalazioni Tornano le vostre segnalazioni e con esse si accendono i riflettori su problemi sempre gli stessi spesso generati dall'inciviltà di alcuni partiamo dalla contrada perriera nell'area retrostante al pallone tenda dove fino a ieri sera era ancora fortissima la puzza di bruciato conseguente ad un rogo che qualcuno ha generato in un terreno incolto a bruciare con alla base alcuni sfalci di potatura parevi fossero anche sacchetti della spazzatura e immondizia varia fatto questo che ha generato un odore acre che ha allarmato i residenti i quali hanno allertato i vigili del fuoco nonostante il fuoco sia stato spento l'odore pungente ha continuato a propagarsi per tutta la giornata con gli abitanti che alla nostra redazione chiedono controlli e verifiche da parte della polizia municipale per evitare il ripetersi di questi episodi e per punire chi incendiando rifiuti tra cui la plastica inquina pericolosamente l'aria ci spostiamo in contrada castellana sul ciglio della strada fatto capolino l'ennesima discarica abusiva delle periferie i sacchetti neri colmi di rifiuti sono davvero una minima parte del deposito improvvisato che in basso da oggetti ingombranti resti di materiale edile cassette di plastica ethernet pneumatici tutti i rifiuti che per la loro tipologia fatta eccezione per l'ethernet potrebbero essere conferiti presso l'isola ecologica della perriera e che invece i soliti incivili abbandonano in giro a sporcare e contaminare campagne e terreni agricoli incuranti dei danni alla salute e al decoro pubblico passiamo dal centro da villetta Lombardo dove chi scrive alla nostra redazione fa notare come l'aria manchi di decoro e pulizia alcune parti della villetta sono invase da erbacce che andrebbero tagliate altre da cumuli di foglie che afferma chi ci scrive due operatori ecologici ogni mattina si impegnano a raccogliere pare però che abbiano a disposizione solo una pattumiera insufficiente a contenere la copiosa mole di foglie da raccogliere quotidianamente che pertanto restano ammucchiate a rappresentare in caso di pioggia anche un pericolo per i tanti anziani frequentatori del luogo villetta dove sono ammondanti anche i rifiuti ingombranti chiudiamo alla perriera da dove arriva un accorato appello da parte di alcuni residenti di intervenire nelle numerosissime buche del quartiere la stragrande maggioranza delle quali profonde e pericolosissime per l'incolumità di automobilisti e ciclomotori un elenco impressionante di buche e strade diverte che rendono pericolosa la circolazione stradale le immagini del nostro operatore si riferiscono a via Parma dove insiste il liceo scientifico Enrico Fermi in via Ferrara nei pressi della scuola Mariano Rossi un primo intervento è stato già fatto ma non è per niente risolutivo affermano i residenti e documentano le nostre immagini all'incrocio con via Fratelli Cervi infatti parte della strada è completamente dissestata stesse buche stesse disagi volendo fare dell'ironia anche in via Modena e via Piacenza a due passi dal liceo Fermi dove ogni giorno transitano centinaia di studenti a bordo del loro scooter buche che sono purtroppo solo una rappresentanza delle tantissime che insistono nelle principali arterie della perriera e per le quali servirebbero dei rattoppi con l'asfalto eppure concludono i residenti non se ne riesce a venirne a capo domani mattina alle 11 il movimento politico Mizzica inaugurerà la nuova sede nei locali di via Giuseppe Licata 214 un luogo essenziale per il confronto e la partecipazione di chiunque voglia contribuire a migliorare la nostra città si legge nella nota crediamo che l'impegno civico sia il vero motore della politica questo è il principio cardine di Mizzica sin dalla sua fondazione con questo principio vogliamo continuare a lavorare da domani sarà possibile tesserarsi e far parte dei tavoli di lavoro e la saccense Giulia Gulino la vincitrice del challenge fotografico Life is Meet Again organizzato nell'ambito del progetto Life Memorial Fabrizio Piro vince un trofeo in ceramica quale riconoscimento per aver recolto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto vediamo si sono chiuse lo scorso 30 ottobre le iscrizioni all'edizione 2022 del challenge fotografico Instagram Life is Meet Again organizzato nell'ambito del progetto Life Memorial Fabrizio Piro portato avanti dal club fotografico amatoriale l'altra sciacca foto insieme agli amici e ai familiari di Fabrizio Piro e alla community Instagram Igers Agrigento la giuria composta da Antonella Russo moglie di Fabrizio Piro e ideatrice del progetto Life Riccardo Catagnano creative director e amico di Fabrizio Antonella Giovinco fondatrice local manager di Igers Agrigento e Francesca Magnas fotoreporter dell'altra sciacca foto ha decretato all'unanimità come vincitrice la saccense Giulia Gulino con il suo scatto ben composto in cui si coglie oltre all'incontro o reincontro con il mare anche un tornare all'acqua alle origini alla purezza a dove ognuno di noi ha avuto inizio la comunicazione della foto vincitrice così come si è verificato negli ultimi anni è avvenuta nel giorno in cui Fabrizio Piro avrebbe compiuto gli anni un modo per ricordare ancora una volta il giovane saccense prematuramente scomparso e a cui è dedicato l'intero progetto Life Giulia Gulino vince un trofeo in ceramica quale riconoscimento per avere colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto lo staff del progetto Life dà appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione della caccia al tesoro e del challenge con un nuovo tema oggi presso il comune di Sciacca si è tenuto un convegno proposto dal Rotary Club in occasione della giornata della gentilezza sentimento e virtù da portare avanti nei social nei media e nei servizi al cittadino vediamo giornata della gentilezza gentilezza paradigma di una virtù nei social nei media e nei servizi al cittadino se ne è discusso questa mattina Sciacca presso la sala Blasco del Comune nell'ambito di un appuntamento promosso dal locale Rotary Club presieduto da Carmelo Burgio oggi tratteremo un tema che ha una fondamentale importanza per la vita per la vita di tutti perché il tema della gentilezza è qualcosa che riguarda sia la persona l'empatia la capacità di ascolto ma poi anche i rapporti noi abbiamo voluto ampliare e applicare diciamo questo tema al vivere sociale come tale anche alla pubblica amministrazione noi avremo la protezione civile che ha già fatto un decalogo con l'ambasciatrice ecco l'ospita d'onore di oggi è l'ambasciatrice della gentilezza in Sicilia e Calabria la dottoressa Re che sta promuovendo appunto delle conferenze in giro e quindi è un tema importante che riguarda tutti abbiamo ospiti anche i ragazzi dell'istituto Arena di Sciacca perché vogliamo diffondere questo criterio questo sentimento questa virtù è una virtù importante in tutti gli ambiti protagonista del convegno a cui ha preso parte anche il sindaco Fabio Termine in particolar modo è stata Natalia Re che è l'ambasciatrice della gentilezza per le regioni Sicilia e Calabria una tematica molto importante e delicata che sarà promossa inoltre in apposite iniziative coordinate con il mondo della scuola Il tema della gentilezza è importante a livello universale oggi lo è un po' di più perché si sono inariditi i rapporti i linguaggi si sono evoluti ahimè in un senso un po' contrario a quella che è la gentilezza che dovrebbe essere insita in ciascuno di noi al di là di qualsiasi titolo di formazione ma è una disposizione d'animo che dobbiamo iniziare ad utilizzare allenandoci a partire ovviamente da un lavoro fatto sulla persona per relazionarci meglio con gli altri e per stare meglio perché in realtà i comportamenti gentili ci aiutano a stare bene Gentilezza anche su internet e sui social Gentilezza a 360 gradi Gentilezza sui social a livello mediatico a livello televisivo dove oggi purtroppo comportamenti poco virtuosi a livello di linguaggio imperano e questo cliché un po' violento della violenza e del linguaggio va completamente destrutturato attraverso l'utilizzo di parole e comportamenti gentili Qual è il confine se c'è un confine tra gentilezza e l'educazione? Diciamo che non dovrebbe esserci il confine perché la gentilezza è un'emozione sostanzialmente l'educazione invece ci impone e ci guida rispetto delle pratiche dei comportamenti virtuosi profondamente legati alla gentilezza quindi la gentilezza come stato d'animo e lo stimola affinché un processo educativo si trasformi poi in un comportamento reale Appuntamento con la solidarietà oggi pomeriggio in piazza Scandaliato a partire dalle 18.30 in programma motori vintage sotto le stelle raduno di auto d'epoca e poi spettacoli sul palco della piazza tutto a sostegno delle associazioni Crescere Insieme e Agape Onlus un'iniziativa promossa da Salvino Puleo in collaborazione con Alessandro Pusateri Giovanni Bilello e Simona Brucculeri noi ce ne occupiamo in questo servizio giornata di solidarietà e beneficenza ma anche un importante momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della disabilità oggi a Sciacca in piazza Angelo Scandaliato che a partire dalle 18.30 ospiterà l'iniziativa denominata motori vintage sotto le stelle un raduno di auto d'epoca a sostegno delle associazioni di volontariato che si occupano di ragazzi diversamente abili Crescere Insieme e Agape Onlus dopo il giro delle auto d'epoca per le vie della città con a bordo i ragazzi delle due associazioni in serata sul palco tanti spettacoli e tanta musica con la School of Rock di Sciacca Alessandro Pusateri la musica avrà un ruolo importante nell'ambito di questa iniziativa? Assolutamente allora intanto penso che sia fisiologico il binomio motori e musica è una delle accoppiate migliori poi ovviamente ci saranno anche tante altre creazioni artistiche la cosa particolarmente interessante è che appunto parteciperà e saranno interessati a questi eventi musicali anche i ragazzi con delle disabilità e i ragazzi che appunto hanno negli anni frequentato la School of Rock quindi non solo i ragazzi appunto che attualmente frequentano questa scuola e ringrazio tantissimo Salvino Puleo che è l'organizzatore per avermi coinvolto e soprattutto appunto ringrazio per il lavoro che fanno e che svolgono da ormai da anni sia l'Agape che Crescere Insieme appunto due associazioni che sono costantemente appunto al centro del processo di inclusione di questi ragazzi disabili e che veramente fanno tantissimo per questi ragazzi disabili e spero appunto che il comune che tutte le istituzioni siano molto attente a queste associazioni e gli dia una grande mano perché veramente il lavoro che fanno è allucinante io ho avuto l'opportunità di lavorarci per diversi anni e veramente mi hanno dato tantissimo sia professionalmente che artisticamente Spettacoli sul palco la cui presentazione è stata affidata al duo Giovanni Bilello Simona Brucculeri Noi faremo tantissime cose avremo tantissimi ospiti ci saranno delle sfilate di moda ci sarà la presenza di artisti saccensi molto importanti tra cui Carlotta Gianniberti il tenore Gabriele Carbone che presenteranno delle loro canzoni cioè la serata verrà scaglionata con diversi momenti anche di sensibilità perché ci sarà il racconto di tante testimonianze perché dovete sapere che la serata è a beneficenza è una serata dedicata al sociale ai bambini autistici e questo fa sì che tutti noi siamo promotori di quello che è il nostro cuore nei confronti di questa realtà che magari non viviamo normalmente tutti i giorni ma che comunque è presente nella nostra collettività e bisogna dargli importanza L'obiettivo degli organizzatori è quello di coinvolgere la popolazione a sostenere le due associazioni saccensi Noi nel nostro piccolo cerchiamo appunto di proporre un piccolo intrattenimento musicale proprio allo scopo di dare una mano a queste associazioni che fanno veramente tanto per questi ragazzi La serata come dicevo prima è scaglionata con diverse cose cantanti musica band la school of rock che presenterà le band ci saranno tantissime cose la serata sarà molto piena di sentimenti di leggerezza e tanta 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 risata tra me Simona Bruccoleri poi c'è un'intesa particolare quindi non vi dico niente Teatro in fase di allestimento una nuova commedia musicale diretta da Salvatore Monte che andrà in scena nel periodo natalizio all'interno del Teatro Comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia riuscire a farvi ridere il titolo della commedia musicale scritta da Terzoli Vaime Verde e diretta da Pietro Garinei nel lontano 95 protagonisti di quello show due grandi del Teatro Italiano Gino Bramieri ed Enzo Garinei la scelta di proporre al pubblico un nuovo spettacolo musicale con quello stesso titolo è un palese omaggio alla memoria di Enzo Garinei recentemente scomparso all'età di 96 anni in scena Salvatore Monte e Michele Cidafisi che si ritrovano insieme in palcoscenico per raccontare i fantastici anni del varietà tra antichi ricordi e nuove mode ad accompagnare i due caratteristi sarà un frizzante corpo di ballo che danzerà su coinvolgenti ed affascinanti musiche l'obiettivo è ancora una volta quello di tanti anni fa riuscire a far ridere lo spettacolo andrà in scena al Teatro di Sambuca nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre adesso la rubrica il libro del giorno hai mai provato a chiederti quali strumenti hai a disposizione per affrontare le sfide di tutti i giorni come fai a capire di chi puoi fidarti sai scegliere le cose che ti fanno bene quando ti arrabbi sei in grado di mantenere il controllo e di fronte alle preoccupazioni come ti comporti riesci a gestirle o ti lasci sopraffare crescere significa trasformarsi creare giorno dopo giorno una nuova versione di te è un lavoro lungo e paziente simile a quello di uno scultore e come tutti i lavori richiede abilità e risorse specifiche per riuscire al meglio il libro che hai tra le mani è un percorso pratico di potenziamento delle tue abilità emotive le emozioni e delle tue competenze per la vita ansia fiducia rabbia solidarietà e autostima per ogni capitolo troverai storie test giochi meditazioni e consigli per interrogarti su di te imparare a conoscerti confrontarti con gli altri e trovare il tuo equilibrio nella testa e nel cuore perché sei speciale piccole attività meditazioni test per prenderti cura delle tue emozioni di Alberto Pellai e Barbara Tamborini edito Mondadori apriamo la pagina dello sport con il calcio derby agrigentino domani pomeriggio allo stadio Gurrera l'Unitas Sciacca ospita il Profavara match che potrebbe avere una valenza importante per quanto riguarda i piazzamenti della zona playoff del campionato di eccellenza mister Totò Bruculeri che dovrà rinunciare al difensore Ciancimino per squalifica punta ad un risultato positivo per dare una gioia ai tifosi nero-verdi vediamo si attende il pubblico delle grandi occasioni domani pomeriggio allo stadio Gurrera per il derby agrigentino tra Unitas Sciacca e Profavara la partita è valevole come decima giornata del campionato di eccellenza a Gironea ed è un incontro che data la classifica delle due squadre potrebbe avere una certa importanza per quanto riguarda i piazzamenti in zona playoff il calcio d'inizio è previsto alle ore 14.30 in occasione della partita di domani e per tutto il proseguo del torneo intanto è stato predisposto il divieto di sosta nel piazzale antistante allo stadio Gurrera è quanto ha deciso la polizia municipale a seguito di apposite ordinanze emesse dalla questura di agrigento in occasione di eventi sportivi non sarà dunque possibile parcheggiare nell'aria antistante allo stadio Gurrera nelle giornate in cui la squadra seccenza gioca in casa il divieto di sosta rimarrà in vigore dalle ore 12 alle ore 18 prevista la rimozione dei mezzi fatta eccezione ovviamente per i veicoli di soccorso delle forze dell'ordine dei vigili del fuoco e della protezione civile tornando al campo mister Toto Bruculeri dovrà rinunciare al difensore Girolamo Cialcimino per squalifica e al difensore argentino Salvucci per infortunio ascoltiamo le interviste pre partita sinceramente queste due partite hanno revitalizzato lo sfogliatorio e l'ambiente per cui venire tra scompite consecutive non è una cosa facile da poter però è chiaro che magari facendo un lavoro meticoloso all'interno dello sfogliatorio ormai le ragazze hanno subito un grande colpo ma su questo penso che hanno reagito in queste due partite abbiamo raccicolato quattro punti fondamentali importanti domani è un derby derby sai hanno sempre un fascino particolare noi siamo pronti ad affrontare questa partita insomma colpiglio giusto è il secondo derby che quest'anno noi stiamo andando ad affrontare questa volta è contro il Favaro un'altra squadra ben organizzata e ben strutturata anche a livello societario è un derby che ha il sapore dei playoff perché entrambi siamo lì entrambi siamo ad un punto l'uno all'altra quindi sarà sicuramente una bellissima partita e come sempre invito tutta la città a venire allo stadio e a cercare di aiutare questa squadra affinché domani veramente possa essere una bellissima giornata e portare i tre punti a casa onestamente è una partita molto particolare perché a Favaro ho giocato quattro anni dove ho visto delle cose molto importanti che fino ad ora rimango con me nel mio cuore e ho conosciuto tante persone gente ottime e come hai detto lei è una partita particolare per me perché come dicono per me è una partita normale come ho affrontato sempre tutte le partite quindi non c'è per me niente speciale è sempre una partita normale per me Lunedì 14 novembre la Icaro Basket di Sciacca di Giovanni Monastero esordirà nel campionato di promozione in panchina al suo esordio ci sarà il nuovo tecnico Santo Tirnetta che dopo una lunga carriera semiprofessionistica dal giocatore adesso si cimenterà con la crescita dei più giovani vediamo Santo Tirnetta una nuova esperienza da allenatore di pallacanestro con inizio lunedì del campionato di promozione sì ci siamo praticamente mi sono scimentato mi sono come posso dire tuffato in questa mia nuova attività che poi non è nuova perché il mio passato da ex giocatore di pallacanestro mi ha fatto sempre amare questo sport quindi per me è qualcosa che mi fa piacere rifare e cimentarmi di nuovo in questa bella avventura per questo campionato di promozione che gruppo c'è che squadra si prepara? il campionato di promozione devo dire che per noi è un'esperienza dopo vari anni che non eravamo presenti in questo campionato io innanzitutto devo dare un grande ringraziamento un grande laudo a Giovanni Monastero che mi ha coinvolto come si suol dire in questa attività lui mi ha spinto a fare il corso di allenatore prenditi il tesserino perché così puoi stare in panchina come lui ha un bel giro di ragazzini che purtroppo non si riesce a potenziare anche per problematiche che bene o male sapete tutti delle strutture fatiscenti che ci sono a sciacca il pallone tenda ancora rimane lì uno ormai quasi un'utopia non si riesce più ad aprire questo pallone tenda quindi non avendo le strutture siamo limitati appunto a pochi spazi per dare ai giovani però lui si sta dando da fare ormai la Icaro Basket è una realtà sciacca e ora cercheremo di valorizzarla anche in campionati che non sono solo giovanili ma come quelli di promozione e quindi mi ha dato questo stimolo questo input e siamo qua la nostra prima esperienza ho dei ragazzi che devo dire sono contento anche del loro livello tecnico ma sicuramente avranno solo da fare esperienza io io penso che questo sarà un progetto che almeno almeno sarà a breve termine è sempre che avremo dei buoni risultati fra un più di anni ma già quest'anno servirà tantissimo a loro per crescere e fare tantissima esperienza soprattutto i giovani che già si avvicinano più anche ai campionati senior diciamo così l'esordio dove è previsto? noi giocheremo dovevamo giocare domenica ma è stata rinviata a lunedì e il mio esordio il mio debutto in panchina come allenatore sarà a Trapani lunedì prossimo con l'Aerice Trapani facciamo un tuffo nel passato Santo Tirnetti per quanto tempo ha giocato a basket? è tantissimo per me era anche anche il mio lavoro perché ho giocato per più di 15 anni a livello semiprofessionale in serie B ho avuto la mia esperienza due anni a Marsala poi più di dieci anni l'ho fatti a Portempeto dove ho avuto grandi e belle soddisfazioni grandi e bei risultati che mi hanno permesso appunto di giocare a questi a questi livelli e poi il ritorno a Sciacca con con la squadra che già era avviata con il grande Paolo Perrone che è stato lui che mi ha lanciato quindi un ricordo è sempre doveroso nei suoi riguardi e da lì poi un piccolo passato come allenatore tanti tanti anni fa ma niente di che quindi poi avevo accantonato un po' la palla a canestro spostandomi alla subacquea dove dove anche la subacquea posso dire che mi ha dato dei buoni risultati anche perché è sempre bello cimentarsi e impegnarsi con tutto se stesso nelle attività che si fanno perché ti danno soprattutto se le fai perché ti piace farlo lo fai con con gioia e con piacere e sono secondo me i risultati poi arriveranno e quindi spero di fare la stessa cosa ora come allenatore e soprattutto di portare avanti questi giovani che ce ne sono tanti perché tu lo sai lavorare con i giovani per me è una una prerogativa importante perché loro sono il nostro futuro un'ultima domanda in breve per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina della palla a canestro non basta soltanto essere alti no assolutamente non c'entra niente la palla a canestro è suddivisa appunto in ruoli chi chiamiamo ruoli dal playmaker che è colui che più porta la palla quindi lì non bisogna essere tanto alti basta anche essere veloci e soprattutto sapere gestire un po' il gioco quindi ci sono ruoli per tutto sicuramente i ruoli dove c'è bisogno di più stazza fisica quindi altezza sono quelli dove si gioca più vicino al canestro come il pivot l'ala ma principalmente si può giocare a palla a canestro a qualsiasi altezza ve lo assicuro non è quello importante l'importante è avere la voglia e spero che i giovani che già ci sono ma che continuino ad arrivarne sempre di più perché c'è bisogno veramente di un bivaio bello folto e speriamo anche che il comune ci dia la possibilità di poter fare e ampliare questa attività con una struttura adeguata che spero arrivi quanto prima è tutto noi ci fermiamo qui vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo di trascorrere un felice e sereno fine settimana grazie e arrivederci grazie a tutti